Scalinata e Portici di San Bernardino, Piazza Santa Maria di Paganica, Piazza Santa Margherita, Piazza della Repubblica, Piazza San Basilio, Piazza Nove Martiri. Sono queste le aree individuate dall'ordinanza del Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi dove c'è assoluto divieto di consumare bevande alcoliche senza limiti di orario. I limiti, i divieti e i controlli possono fare solamente in parte da mitigazione ad un fenomeno che riguarda una parte delle persone che vanno in piazza, non tutta la movita. Il resto lo fanno l'educazione e il buonsenso. Il divieto stesso si applica anche a tutte le aree verdi pubbliche pertinenti al centro storico, Parco del Sole, Piazzale di Collemaggio, Parco del Castello, Villa Comunale, Porta Branconia, Parco Unicef e Parco delle Acque. Noi abbiamo provato a limitare alcune cose istituendo delle zone dove proprio non si possono consumare bevande in nessuna ora del giorno o della notte perché non ci sono locali né pressi e quindi non c'è giustificato motivo. Abbiamo imposto il divieto del vetro per chi non è seduto ai tavoli e quindi limitare l'utilizzo di questi contenitori che poi devono essere raccolti, comunque fanno rumore, possono essere lasciati di notte. E dall'altro di incrementare la pulizia e la fornitura di contenitori per la raccolta di bottiglie, bicchieri eccetera. Il resto lo devono fare gli esercenti collaborando come stanno facendo. Per Giorgio Carissimi Confesercenti L'Aquila il provvedimento può aiutare ma non è sufficiente da solo. È un passo in avanti, serve sicuramente, è un deterrente per quanto riguarda i giovani che magari comprano gli alcolici nei supermercati e li consumano in queste aree pubbliche. Quindi sicuramente serve un passo in avanti però ci serve più controllo, soprattutto per i giovani. Secondo noi è importante la presenza della questura delle forze dell'ordine perché altrimenti se le cose si fanno le ordinanze ma poi non si rispettano non serve praticamente a nulla.